Il livello 10 Tutti pronti all'aeroporto Ora parte il giorno 2, termine i livelli Il livello numero 10 Anche 100, poi 500.000 Viene risciato ad attenzione Partiti Si giocheranno oggi livelli di 75 minuti Quest'oggi si giocano 8 livelli di gioco Ci sarà una pausa di 15 minuti O ogni 2 livelli Pausa a cena Dalle 8 alle 10 Probabilmente divisa in 2 stagioni Allora, sono previsti 8 livelli ma Se aggiungiamo prima 24 giocatori Ci prendiamo lì E allora si parte Al tavolo 23 abbiamo Antonio Scalpi che è il T-Shore All'inizio dei due Di qua al 24 Accanto alle nostre postazioni Della stampa Abbiamo il ciclido Sandro Mattei Restate con noi Per un'altra grande giornata di poker God of the book E 5 volte Risavamo e poi davanti Quanto sono aggressivo Alla un po' Dio me è di organizzare Mh Grazie Un saluto Un saluto Ma Un saluto Un saluto Anche Un saluto Un saluto Un saluto Dio Un saluto Grazie a tutti